Il live action di Biancaneve è pronto a arrivare sui nostri schermi, ma adesso abbiamo delle novità sulla trama che vi faranno veramente un po' inalberare, diciamo così, ma prima di tutto, si viva! Eccoci qui ragazzi per parlare nuovamente di live action Disney, un argomento ben sfruttato e ben eviscerato durante questo periodo perché sappiamo che la Disney sta iniziando a sfornare live action su live action presi dai cult Disney classici degli anni 90 e 80 e il prossimo live action che avremo, anche se sarà un prequel, quindi quello del re leone, ovvero Mufasa. Qui sono anche quasi d'accordo perché ero curioso di sapere com'era la vita del papà di Simba, ma c'è una cosa che in molti stanno odiando, per così dire, ovvero il live action di Biancaneve. Cosa sappiamo del live action di Biancaneve? Ci sarà Rachel Zegler nei panni di Biancaneve e Gal Gadot nei panni della regina cattiva. Il film arriverà a marzo del 2025, intorno al 20-25 marzo, ma fino ad oggi non sapevamo niente della trama, sapevamo che c'era la questione dei nani, sapevamo che in molti avevano già iniziato a sollevare questo polverone di polemiche perché i nani non saranno nani ma saranno creature magiche, forse sì, forse no e probabilmente dai primi rumor, ma quasi ufficiali abbiamo una trama effettiva del film che conferma che i nani non saranno nani ma creature magiche. Ragazzi diciamo che la trama è un po' differente da come conosciamo appunto il live action di Biancaneve, ma fatemi un attimo spiegare di cosa racconterà questo nuovo film su Biancaneve e senza i sette nani soprattutto. Per prima cosa il personaggio di Biancaneve non sarà in difesa come abbiamo sempre conosciuto ma sarà un personaggio fortissimo che guiderà una rivoluzione contro la despota regina cattiva per spodestarla dal trono e dal controllo di penso sul bosco e su quello che ne deriva. Come detto i sette nani non saranno tali e saranno appunto delle creature magiche e non verranno chiamati nani. Adesso sono curioso di capire bene questa storia. Tutta la sequenza della mela avvelenata sarà completamente differente e tolta dal contesto nel quale conosciamo e abbiamo sempre letto la favola. insomma quindi quella parte sarà completamente differente anche se ci sarà ma non sarà messa in scena in quel modo. Infine il personaggio maschile che ci sarà nel film sarà un bandito interpretato da Andrew Burnham e al suo seguito avrà sette banditi. Io penso che i sette banditi a questo punto siano i sette nani e la rivoluzione che Biancaneve inizierà contro la regina cattiva porterà una guerra interna in questo bosco fatato che non tutti vorranno guardare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo nuovo Biancaneve live action e lasciatemi un commento per parlarne e capire se ne è valsa la pena. Perché continuare a fare live action che nessuno si guarderà? L'idea per esempio del live action di Peter Pan e Uncino era anche carina alla base durante il film capiamo in quella pellicola che Peter Pan e Capitano Uncino erano amici e erano approdati insieme sull'isola che non c'è e Capitano Uncino invece è tornato indietro per poi tornare sull'isola che non c'è e continuare a non crescere mentre Peter Pan era rimasto sull'isola. Però l'idea era carina, impostazione un po' a meno perché c'è tutta la questione di Trilly, di Wendy che non mi è piaciuta assolutamente per niente, però il rapporto tra Capitano Uncino e Peter Pan era carino. qui mettere un personaggio così forte al centro della storia non ha senso ragazzi, non lo so. Fatemi sapere voi cosa ne pensate o vi ricordo di lasciare un commento o un mi piace al canale per iscrivervi e commentare. Ci trovate su tutti i social Instagram, Facebook, YouTube, Ciaccazioni e vi ricordo di passare e commentare, dirci la vostra. Ciao a tutti da Valerio Berrone.